Ciao, sono Claudio Dodoi e sono il creatore di questo video. Quest'oggi ci tufferemo in una nuova avventura, l'avventura di Spider Lello. Due bari e nei guai, soltanto un eroe può salvarla. Bello, dove cazzo volai? Bello! O me la dai o me la prendo. No, lascio stare. Secondo. Bello. Prima che parte il pullman, eccolo qua. Va bene? Sì. Il biglietto! Il biglietto, aspetta, il biglietto, aspetta. No! 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 Sei completamente inaffidabile. No, no, te non te lo fai che non. Cazzo! QuackissentING! Vada su casa. No, no! No, no, no! No, no, no! No, no! No, no! No, no... Grazie a tutti.